Quest'anno lottano anche per vincere il Cepestino. Allora, bocca al lupo per ieri azzurri. Ciao. Buongiorno a te e forza Napoli femminile. Ok, ciao Pino. Quattro giudici, ginnastica, tennis, basso, fai lavoro, danza, top, judo, karate. Adesso ho scritto anche un bellissimo libro, si chiama Calvonino e Paffini. Finisco il tempo. Finisco il tempo. Quattro giudici. Buongiorno a te. Uno, un bambino, un contatto. Sì, un tato. Un libro, un chiamato, un po' di euro, e un paio che ha sceguito con ieri, un po' di euro. Un po' di euro, 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 fino a sua. Questo, do' Ileonora, la porta a casa, indistruttare. Il suo sentimento. E poi, scrivete qua un po' uai e-mail cosa ne è pesata. forse ci sono qualche ricordo sarò sicuramente anche anche delle cose a te e a tua famiglia e a tua procura e a tua pari